e nostra ospite oggi velia lalli stand up comedian e intanto benvenuta e ti ringraziamo allora vogliamo chiederti come stiamo chiedendo a tutte le persone in questo momento come stai affrontando questo periodo del lockdown che nel tuo caso come quello di molti altri blocca il tuo lavoro come lo sto affrontando all intanto appunto non sto lavorando cioè non sto facendo quello che il mio lavoro cioè live quindi le serate quindi gli spettacoli quindi questo è un po difficile da gestire sia appunto vista economico che devo dire emotivo perché per uno che si è scelto un lavoro in cui ha bisogno del pubblico non avere più il pubblico potete immaginare che ricadute psicologiche posso avere l'altra cosa è che effettivamente io vivo da sola con due gatti quindi oltre a voler ormai essere arrivata la consapevolezza di voler affogare i gatti mi pongo anche il problema di quando potrà finire questa quarantena sia per il bene di tutti quanti sia perché spero che finisca prima che vado in menopausa quindi diciamo c'è anche un altro aspetto proprio personale per il sto vivendo bene tutta la prima fase in cui pulivo molto io non so cucinare quindi mi sono impegnata poco nella cucina quindi 40 giorni che mangio male ogni tanto quando la gente faceva i flash mob sul balcone io mi affacciato urlavo voglio un brasato cioè nel senso io capisco ognuno ha le sue esigenze c'è chi ha voglia di cantare io vorrei mangiare cose buone ecco vorrei solo poter mangiare una cosa buona una volta e purtroppo se mi affido a me stessa è impossibile posso capirti lo stesso da questa parte e senti però tu sei molto attiva in questo periodo nei social in cui hai fatto diverse cose su instagram su facebook ci vuoi raccontare qualcosa sì allora presentata così sembra che io stia facendo una cosa molto interessante in realtà sono delle cretinate che io faccio a mio beneficio non in favore del pubblico nel senso che mi devo sfogare io mi devo sfogare ho queste energie che devo sfogare se no poi mi deprimo quindi faccio cose all'inizio facevo i video di me che facevo le pulizie e quindi diciamo invece di fare i workout la ginnastica come fa la gente io decido di fare questa rubrica che si chiamava workout un cazzo cioè praticamente io che faccio delle pulizie un po originali un po acrobatiche con balletto che vi invito a non ripetere a casa perché ci sono delle cose veramente assurde e questo workout un cazzo lo trovate sul sì sulla mia pagina facebook o sul profilo non mi ricordo un po a caso io poi sono talmente schiappa sui social che pubblico a caso certe volte su facebook certe volte su instagram e poi ho fatto una rubrica invece questa è un po più strutturata su instagram che si chiama una domanda sulla vita velia lalli siccome io parecchi follower giovani ho deciso di diciamo di smettere di farmi scrivere in privato solo cose zozze e di convogliare le loro energie in una cosa più edificante cioè una serie di domande sulla vita che loro tra l'altro mi stanno facendo fanno delle domande molto divertenti molto carine anche molto di senso e a cui io rispondo un po nel mio stile diciamo un po cinico un po stronzo ecco e quindi abbiamo arginato i maiali ventenni chiaramente in questo periodo sono molto più attivi i maiali cinquantenni sui social e però nella rubrica c'è anche un pensierino per loro di solito in ogni puntata e niente poi partecipo a varie interviste varie cose varie dirette in cui mi invitano insomma cerco di sentirmi un pochino meno sola in parte ci riesco in parte no e poi c'è un video che adesso noi mandiamo e facciamo vedere ai nostri telespettatori ho appena firmato il nuovo dpcm che prologa l'attuale regime delle misure fino al 16 aprile ecco questo video che tu hai realizzato quando sono stato annunciato il prolungamento delle restrizioni come è stato realizzarlo allora questo video che è una delle mie cretinate appunto però ha richiesto a differenza delle altre cretinate un po più di impegno perché praticamente io dovevo chiudermi nel contenitore del letto come avete visto ma non sapevo come fare più che altro avevo paura di rimanere chiusa dentro al letto e quindi abitando da sola ho pensato di allertare mia sorella quindi l'ho chiamata e le ho detto guarda io adesso mi chiudo nel letto e lei mi dice ma che sei cretina come fai puoi uscire dal letto? Dico no sì sì lo so c'è ragione però magari facciamo così io se non vedo che non riesco ad aprire ti chiamo e lei giustamente dice ma come fai a chiamarmi che c'è il telefono fuori per fare le prese? Ah ok allora facciamo così se non mi sentite per mezz'ora a un certo punto finita a salvarmi solo che mia sorella giustamente mi ha detto ma guarda te se io devo uscire da casa dalla quarantena per venirti a salvare te che ti chiudi nel letto dice che ci scrivo io poi sull'autocertificazione pensa se mi fermano io ci ho scritto sto andando a salvare quella cogliona di mia sorella che si è chiusa nel contenitore del letto giustamente quindi la realizzazione del video ha dovuto purtroppo si è resa un po più complicata quindi ho dovuto chiudere nel letto al mio posto il mio piumino invernale avvolto nel lenzuolo e poi dopo fare un montaggio insomma che essendo io un po' una schiappa nel montaggio mi ha richiesto un certo impegno quindi spero almeno che vi sia piaciuto io così ho passato un pomeriggio diciamo dandomi un'apparenza di lavoro e magari voi siete divertiti chi lo sa assolutamente sì hai un futuro anche come montatore se dovesse continuare il lockdown vediamo vediamo velia grazie di essere stata nostra ospite e in bocca al lupo sperando che tu possa riprendere a lavorare presto in sicurezza lo spero presto vi lascio con un messaggio io sono passata dall'hashtag andrà tutto bene all'hashtag ci avevano ragione i pessimisti questo è il mio pensiero vi saluto con questo pensiero positivo a presto ciao ciao